Amici, tornando a parlare di Character Story, voglio farvi vedere un personaggio che è molto reale, è un uomo, è vero, però non esiste nella realtà e sarebbe in pratica un poliziotto sotto copertura dal grilletto facile. Chi è? Quando si tratta di personaggi mitici, ce n'è uno che ha attraversato l'era della Playstation 1, ovviamente, e forse è un pochino approdato nell'era Playstation 2, con un discreto successo, ma non abbastanza. Si tratta di Tanner, poliziotto sotto copertura dal grilletto facile, dell'omonima serie Driver. Ma quando è nato? Beh, possiamo dire semplicemente che Tanner è un poliziotto, dalle poche parole, dal grilletto facile, che è stato ingaggiato dalla polizia Interpol per fare da semplice autista alle organizzazioni criminali, ma lui stesso deve fare anche il doppio gioco. Deve, insomma, fare il criminale, ma allo stesso tempo fa rapporto alla polizia, insomma. Una cosa abbastanza interessante, è vero. Qual è stato il suo primo gioco? Beh, il suo primo gioco è stato Driver, uscito tra il 99 e il 2000, ed era un gioco diverso dai soliti, perché si girava all'interno delle città, un po' come in GTA, però qua contavano molto gli inseguimenti spettacolari, stile film anni 70, infatti l'atmosfera del primo gioco era proprio stile anni 70, e il divertimento c'era, anche se era solo un gioco di guida. Ma dopo questo primo gioco, uscirono, e come? Altri seguiti, ovviamente. Uscì prima Driver 2, che sarebbe Back on the Streets, seguito ufficiale della serie, uscito tra il 2000 e il 2002. Se all'epoca ottenne un buon successo, rivedendolo oggi si può dire che è un gioco che ha molti limiti, perché la grafica è un po' peggiorata su certi aspetti rispetto al primo episodio. Per esempio, alcune città sono meno dettagliate, anche le automobili, non è che sono brutte, però ho notato che sono un po' fatte male con le texture, per fare un esempio. Poi ci sono state aggiunte anche le sezioni a piedi, che sono quasi del tutto inutili. Ma dopo questo discreto gioco, anche dalla sera proprio un po' stupido. Ci fu un terzo episodio, rilasciato tra il 2003 e il 2004, Drive 3R, ma tutti noi lo conosciamo come Driver 3, ovviamente. E quale fu il risultato? Un'emerita presa per i fondelli. Perché Driver 3 era stato annunciato nell'anno 2002, ovviamente, e tutti lo aspettavano, tutti lo volevano. Io ho addirittura visto anche addirittura le pubblicità promozionali e tutto quello che stavano facendo. Sembrava un gioco che prometteva faville, ma Atari, che aveva una gran fretta, lo fece pubblicare in completo. Infatti, il traffico nelle città è praticamente assente. Le sezioni a piedi sono fatte male e inutili e mal calibrate. Le uniche sezioni positive sono quelle in macchina, ma sono mal calibrate anche quelle, insomma. Un gioco che aveva dell'ottimo potenziale, ma l'hanno fatto male. Dopo questo gioco, uscirono altri giochi, però che non c'entrano niente con la saga di Driver. Ci fu Parallel Lines 76 che non hanno per protagonista il buon vecchio Turner. Ma ci furono altri due giochi. Driver Vegas, Driver Los Angeles Undercover, per i telefoni cellulari fatti da Gameloft e pubblicati da Ubisoft. Erano un po' simili ai classici Driver, solo che vedevamo non sempre per protagonista Turner, ma c'era. E Turner tornerà ufficialmente nel 2011 con il gioco Driver San Francisco. Un gioco che è ambientato solo nella città di San Francisco e Turner qua è molto cambiato rispetto al primo episodio e anche al secondo. Nell'aspetto e anche nel modo di giocare, perché qua Turner fa una sorta di suo sogno in cui può trasportarsi attraverso altre macchine per fare il suo lavoro, per catturare il cattivo del secondo episodio e del terzo episodio Gerico. Insomma, un gioco che sa essere abbastanza buono. E soprattutto per chi cercava un gioco d'azione abbastanza valido e soprattutto sapete che in questo gioco hanno messo tutte autovere, non autofinte. Insomma, con questo purtroppo finì l'avventura videoludica del poliziotto sotto copertura Turner. Avrei voluto vedere altri giochi dedicati a lui, invece di vedere Watch Dogs, che sarebbe il seguito spirituale di Driver San Francisco. Volete sapere qual è il mercato promozionale che hanno mosso intorno a Turner? Beh, non tanto. Nell'era PlayStation 1, gli unici gadget che sono stati rilasciati sono soltanto delle guide strategiche ufficiali e anche addirittura i cd della colonna sonora, ma niente di speciale. Invece, quando arrivò il primo episodio per PlayStation 2, Drive 3R, fu rilasciata certamente una guida strategica anche lì, un cd con tutte le canzoni contenute nel gioco e anche addirittura un cortometraggio realizzato dalla Atari stessa che riprendeva sotto certi aspetti la storia di Turner, del suo fatto di lavorare sotto copertura. Poi, invece, quando arrivò Driver San Francisco, lì invece le cose cambiarono un po', perché rilasciarono ovviamente una versione speciale del gioco con, insomma, un'automobile che rappresenta la Dodge Challenger RT di Turner, ovviamente, e anche una sua action figure, ovviamente. Niente di più. Questo è quanto. Turner, lo so, è un poliziotto sotto copertura, sotto copertura, veramente strunzetto, però possiamo dire che mi è molto simpatico come uomo. Ci vediamo al prossimo video, amici. Ciao. Sì! 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 Sì!